fissare stop loss e target per inserire uno stop loss devi prima aprire una posizione seleziona lo strumento desiderato e decidi dove posizionarti compra o vendi clicca con il tasto destro del mouse sul grafico e seleziona dal menu a tendina compravendita nuovo ordine dopo aver inserito la quantità di contratti nella sezione stop loss hai la possibilità di inserire il livello di prezzo dove vuoi fissare la tua massima perdita potenziale e nella sezione take profit puoi mettere il livello di prezzo che rappresenta l'obiettivo della tua operazione dopo aver aperto la posizione puoi visualizzare i dettagli nella sezione in basso posizioni aperte hai inoltre la possibilità di cambiare i livelli di stop loss e target senza alcun costo è necessario ancora cliccare con il tasto destro sulla posizione aperta e nel menu a tendina selezionare modifiche o cancella ordine da qui si possono cambiare i livelli di prezzo di stop loss e take profit e poi cliccare su modificare